Benvenuti a tutti, questa volta vi voglio far conoscere un sito che pubblica plugin per photoshop e poi vediamo anche non solo. Questa è la home page, vi lascio il link in descrizione che trovate sotto il tutorial, come vi trovate anche questo sito inserito andando appunto nel mio, nella sezione dedicata al plugin. Andiamo qui nell'home page, dicevo questa vedete è la casa che lo produce, andiamo sotto e qui abbiamo i nostri plugin. Se clicchiamo andiamo a vedere, ne troviamo tantissimi, eccoli qua, alcuni sono anche gratuiti, li potete scaricare in modo gratuito, poi potete provarli eccetera. E tutti questi sono stati creati per aumentare la produttività automatizzando i flussi di lavoro di progettazione. Però oggi andiamo a vedere uno in particolare, è questo, vedete che si chiama Quick Align e viene utilizzato per allineare e posizionare i livelli, ma non solo, sarete anche sorpresi dal suo utilizzo. Questo plugin fornisce diversi strumenti per velocizzare il flusso di lavoro quando si tratta di posizionare i livelli. Noi sappiamo benissimo le funzioni di allenamento e distribuzioni integrate di Photoshop che sono abbastanza limitate, quindi questo plugin offre più opzioni per molti casi. Inoltre si possono impilare i livelli in righe e colonne, scambiare la posizione dei livelli, copiare i livelli agli angoli della tela, adattarli all'area desiderata con uno semplice clic e molto altro ancora che adesso andiamo a vedere mano a mano. Ed eccoci qua in Photoshop, una volta installato il nostro plugin e vedremo dopo come farlo, dobbiamo aprire la scheda qui sopra in alto, vedete abbiamo plugin, eccolo qua. Quindi clicchiamo e qui vedete io ho già inserito altri plugin e quindi ve lo ritrovate qui una volta che l'avete installato. Oppure guardate, aprite il pannello dei plugin, eccolo qua, vi ritrovate tutti i plugin che avete installato e poi anche il nostro che andremo a vedere oggi. E quindi clicchiamo e ci ritroviamo qui nella paletta interfaccia dei plugin. L'interfaccia è molto intuitiva, è divisa in sezioni e per ogni funzione che possiamo aprire e chiudere lo possiamo fare cliccando qui a sinistra, vedete abbiamo questo, l'altro, tutte le varie funzioni le apriamo qui dalla freccia a sinistra. Come notate ho inserito uno sfondo di colore grigio e poi una forma, qui un livello della nostra forma che andiamo a selezionare. E andiamo a vedere innanzitutto come creare copie dei nostri livelli in modo molto veloce. Quindi andiamo qui nel nostro pannello, apriamo duplicazione, vedete, poi inseriamo ad esempio copie 2 e clicchiamo qui su questo pulsantino. E guardate, automaticamente vengono creati i livelli delle nostre copie e poi vengono disposti, ordinati, vedete, e distribuiti in orizzontale. Adesso torno indietro, quindi CTRL Z, vedete ho un solo livello, facciamo la stessa cosa però qui selezioniamo questa voce, cioè mantiene la posizione, se andiamo a creare, vengono creati sì i nostri due livelli in più, però vedete nella stessa posizione e infatti eccoli qua vedete se andiamo a spostarli, se li troviamo tutti e tre. Torno sempre indietro e poi lo posiziono, questa volta avete lo posiziono ad esempio qua, così. Poi ripetiamo la nostra operazione e poi però li allineiamo, vedete ne crea sempre tre però escono dal nostro bordo, vedete, eccoli qua. Quindi dobbiamo allargare il nostro riquadro per averli sempre con noi, oppure dobbiamo trasinarli, avendo selezionati tutti e tre, li trasiniamo e li riportiamo qui al nostro centro. Adesso andiamo a vedere l'allineamento e qui guardate chiudiamo e poi apriamo allineamento e qui abbiamo molti strumenti a disposizione che ci permettono di ottenere ottimi risultati. Noi sappiamo, qui vedete che i nostri strumenti base di Photoshop ha migliorato molto il procedimento dell'allineamento, ma qui abbiamo veramente il massimo. Oltre ai normali allineamenti a destra e a sinistra, qui abbiamo a sinistra, vedete, al centro e a destra, abbiamo altri tre pulsantini che ci permettono di allineare e distribuire su tre posizioni in orizzontale, più o a distanza o meno, a quella massima del bordo. Guardate, con questa si posiziona, vedete, sul bordo, destra e sinistra, poi qui abbiamo un po' meno e qui un po' meno ancora. Come avete notato i nostri livelli, questi qui, sia a destra che a sinistra, si allinano perfettamente sul bordo. Se noi andiamo a diminuire o ingrandire il nostro bordo, ad esempio, vedete, lo possiamo diminuire, ecco qua, premo invio e poi distribuiamo sempre come abbiamo visto prima, vedete, si allinano perfettamente al nostro bordo. La stessa cosa la torniamo naturalmente con il nostro allineamento verticale. Ora qui abbiamo, innanzitutto, guardate, qui lo posizioniamo in alto, qui in basso, qui in centrale, poi possiamo, vedete, se clicchiamo qui l'abbiamo per obliquo, poi riduciamo e riduciamo ancora. Inoltre abbiamo tutti nella stessa posizione, questo perché li abbiamo selezionati tutti e tre. Provate, torno in alto indietro e poi ne seleziono uno solo, sposto questo, lo metto qui, quest'altro, vedete, poi seleziono solo questo, ecco che si viene a posizionare perfettamente al centro della nostra immagine, del nostro riguardo. Come abbiamo visto prima in orizzontale, possiamo velo naturalmente in verticale, adesso qui seleziono, vedete, vengono allineati e poi li posiziono qui in verticale sul bordo. Inoltre abbiamo anche questi, vedete, seleziono questo centrale, lo posso posizionare nell'angolo superiore, in alto a destra, scusate, a sinistra e a destra, in basso, destra e sinistra. E poi abbiamo, vedete, quest'ultimo pulsante con la A, ma andiamo a prendere un'altra immagine. E qui ci ritroviamo testo, vedete, di varie dimensioni e altri oggetti e premendo, adesso proviamo a premere sulla nostra A, tutti i livelli vengono allineati in orizzontale in unica linea, vedete, di base. Cambiamo di nuovo immagine, abbiamo gli stessi livelli, però vedete alcuni superposti ad altri. Adesso chiudiamo l'allineamento, andiamo nella sezione sotto e proviamo a premere, ad esempio, il secondo pulsante. E guardate, i livelli vengono allineati in orizzontale e distribuendo uno accanto all'altro. E lo possiamo fare anche a destra che a sinistra. E poi, oltretutto, vedete, anche in verticale, centrale e in basso. Torno come eravamo in origine e vediamo la differenza tra questa voce e quest'altra, tra wrap e string. Allora, guardate, noi abbiamo andato con wrap, adesso andiamo, abbiamo visto che si allineano in orizzontale con le stesse dimensioni. Ma se selezioniamo qui il secondo, facciamo la stessa cosa, guardate, qui si allineano sempre in orizzontale, ma aumentano le dimensioni dei nostri livelli fino a coprire l'intero quadro toccando i bordi esterni. Se li clicchiamo ancora, ecco, guardate, adesso abbiamo i bordi completamente che toccano i livelli estremi. Con questa terza opzione, guardate, tolgo, anzi, torno come era prima, ecco qua, con questa, dicevo, stessa opzione, prendiamo questa, clicchiamo, vedete, vengono allineati uno di fianco all'altro, però mantengono la stessa posizione di origine. È in ugual modo, se clicchiamo, vedete qui, ecco qua, abbiamo la stessa posizione di origine dei livelli. Prendiamo adesso invece questa immagine, abbiamo tutti i nostri livelli selezionati, clicchiamo qui sul primo e quindi allineiamo tutti i nostri livelli a sinistra e li troviamo, vedete, perfettamente allineati uno vicino all'altro. Ora, se andiamo qui in impostazioni generali, poi qui abbiamo queste quattro voci dell'allenamento e qui del gap, vedete, se trasciniamo col tasto sinistro del marcio e posizioniamo qui trascino, tasto sinistro e trascino, ecco che allontaniamo uno dall'altro i vari livelli. In questo modo distanziamo la distribuzione dei livelli e in caso che raggiungiamo il bordo, l'ultimo livello si posiziona sotto, guardate, adesso io clicco ancora, porto in avanti di moto, ancora, guardate, eccolo qua, che avendo toccato il bordo praticamente vengono a posizionarsi sotto. Se invece trasciniamo qui le voci sopra, adesso guardate, torno all'inizio, spostiamo, vedete, spostiamo verso destra, mano a mano verso destra e verso il centro del riquadro. Se qui entriamo dentro la nostra casina, vedete, i valori vengono espressi in pixel, però torniamo indietro e qui inseriamo centimetri e poi ci spostiamo, vedete, adesso abbiamo tutti i valori espressi in centimetri, torno all'inizio, ecco qua, vedete, centimetri e centimetri. Ricordatevi che dobbiamo avere tutti i nostri livelli selezionati, se noi ne selezioniamo solo uno e poi andiamo a spostare, non succede assolutamente niente, vedete, noi dobbiamo avere tutti i livelli selezionati. Se invece qui andiamo a creare una selezione, ad esempio una selezione qua, e andiamo a spostare, ecco che abbiamo i nostri quadrati che si vengono a posizionarsi all'interno della selezione e modifichiamo la distribuzione sempre all'interno della nostra selezione. Se ritorniamo sempre nella nostra sezione, riapriamo e poi scegliamo, ecco qui, questa voce e scegliamo a sinistra, vedete, adesso noi abbiamo allineato all'interno sempre della nostra selezione. Cambiamo immagine e andiamo a vedere la sezione successiva che è molto simile alla precedente. Qui abbiamo, vedete, due parametri, quindi orizzontale e verticale. Adesso proviamo a premere orizzontale e guardate, si riempie tutto il nostro quadro con i nostri tre livelli aumentando le dimensioni e riempendo, allineando qui orizzontalmente fino ai bordi del nostro riquadro. La stessa cosa naturalmente anche qui in verticale. Torno indietro e poi deselezioniamo questa voce, proviamo ancora. Vedete, abbiamo sì l'allineamento ma i nostri livelli sono stati dimezzati in altezza. Cambiamo immagine e la sezione successiva ci permette di posizionare un livello nei quattro angoli. Ora qui vedete, abbiamo un'immagine di sfondo e poi abbiamo questo angolino qua su un livello. Quindi andiamo ad aprire questa sezione, abbiamo il triangolino, vedete, rivolto verso sinistra, quindi clicchiamo, ecco che crea quattro livelli con i nostri quattro angoli e li posiziona proprio negli angoli del nostro riquadro. Torno indietro e guardate il livello naturalmente è girato di là. Se io premo CTRL T, poi ruoto, ecco che in questo caso dobbiamo andare a premere questo pulsante perché vedete è posizionato da questa parte qui, quindi clicchiamo ed ecco che abbiamo i nostri angoli di qua. Se invece noi, torno indietro ancora, andiamo a premere ad esempio questo, abbiamo gli angoli, vedete, ma non vengono posizionati nel modo giusto. Il sistema per quanto riguarda il mio angolino come eravamo all'inizio, quindi 90 in senso orario, eccolo qua. Poi guardate cosa facciamo. Abbiamo il nostro sfondo, una nostra immagine, poi andiamo a posizionare il nostro triangolino qua, tiriamo via la spunta e poi clicchiamo e vedete? Adesso abbiamo i quattro angolini nella nostra immagine e non più nello sfondo perché l'abbiamo posizionato e abbiamo tolto la spunta per fare in modo che i nostri livelli non si sediscono all'angolo proprio del nostro quadro. Passiamo alla sezione successiva, abbiamo tutti questi livelli con questi fiori colorati e poi andiamo qui e qui possiamo scambiare i nostri livelli e lo facciamo in modo semplice. Il primo, vedete questo qui, scambia solo per posizione X e quindi in orizzontale. Guardate, qui abbiamo questo giallo e questo qui magenta. Quindi clicchiamo e qui ci troviamo il magenta di qua e il giallo di qua. Torno a mia posizione originale sempre col giallo qui e poi l'abbiamo in verticale. Abbiamo il verde qua su, guardate, adesso abbiamo il verde sotto col bianco. Infatti guardate, il bianco e il verde erano sopra. L'ultimo invece, l'avete già capito, sia in orizzontale che in verticale. Adesso, molto interessante, è questa ultima sezione. Quindi chiudiamo, apriamo, poi allunghiamo così vediamo bene e qui abbiamo sempre i nostri livelli con i nostri fiori. Adesso torniamo qui in stack e poi, vedete, allineiamo in senso orizzontale uno di fianco all'altro. Poi sposto, qui li metto qua, ritorniamo dove eravamo prima, poi proviamo a creare il nostro raggio, il nostro circolo. Quindi con un range di 360 gradi e poi qui come raggio proviamo a mettere 500 e clicchiamo. E guardate, abbiamo ottenuto tutti i nostri livelli in senso circolare. Se andiamo invece di 360 gradi a spostare il nostro raggio, lo spostiamo naturalmente a 180, ecco qua, ci avviciniamo e abbiamo un semicerchio. E quindi lasciamo per adesso 380, mentre con start, vedete sempre in gradi, possiamo muoverlo e giriamo, e guardate il blu, in senso orario. Quindi andiamo a movimentare i nostri livelli e spostare mano a mano i nostri livelli in senso circolare. Poi abbiamo qui il nostro allineamento che può avvenire sia all'esterno che al centro, che all'esterno. Andiamo a cambiare la nostra immagine, guardate, abbiamo questo quadrante, adesso chiudo, apriamo, abbiamo il nostro sfondo con il nostro quadrante dell'orologio. Poi ho inserito qui un triangolino posizionato sopra le ore 12. Adesso per prima cosa ci inseriamo qui nel nostro triangolino e poi andiamo a copiare, duplicare e facciamo per 3 in modo da averne 4 e duplichiamo il nostro triangolino. Torniamo sempre qui sotto e poi andiamo a cambiare, qui mettiamo 200 pixel e qui scegliamo centrale e proviamo. Vedete, i nostri triangolini si posizionano all'interno del quadrante e questo avviene in un raggio di 200 pixel. Adesso andiamo a vedere, proviamo qui all'interno, vedete si avvicinano e naturalmente esternamente ecco che si allontanano dal nostro raggio di 200 pixel. Adesso torno indietro completamente e facciamo la prova di inserire, mettiamo sempre 360 gradi e poi invece come pixel mettiamo 500, manualmente lo facciamo e poi inseriamo direi centrale. Poi proviamo ed ecco qua, guardate, i nostri triangoli si sono posti a ogni quarto d'ora o per meglio dire ogni 90 gradi. proviamo interno ed esterno, come funziona, quindi esterno, si allontanano naturalmente e interno, vedete, si avvicinano. Il nostro livello con il triangolo naturalmente ruota man mano che si posiziona in senso circolare. Se andiamo a togliere qui la spunta su ruotate, ecco che il nostro triangolino rimane come in origine. Quindi rimettiamo tutto a posto e ritorno sempre allo stato d'inizio. E facciamo un'altra prova, guardate, abbiamo i nostri livelli tutti selezionati, disposto e posiziono qua. Ripetiamo la nostra operazione, mettiamo qui però esterno e proviamo, clicchiamo. Guardate, dove noi li mettiamo, comunque in ogni parte del nostro quadro, questi si vengono sempre a posizionare al centro della nostra immagine o per meglio dire al centro del documento. E se vogliamo posizionare una posizione specifica all'interno del nostro documento possiamo intervenire con questo selettore. Guardate, adesso qui abbiamo il documento, vedete, centrale quindi si posiziona sempre al centro del nostro documento e facciamo la nostra prova col selettore però prima, adesso qui sposto, mettiamo 100, facciamo 100, così li abbiamo qua all'interno e poi guardate, vado a prendere la nostra pipetta che siamo abituati con Tagocce in Photoshop poi clicchiamo in un punto qualsiasi e guardate, ecco che noi adesso andiamo a posizionare in questo punto numero 1 i nostri triangolini nella posizione che vogliamo noi. Se andiamo qui ancora, vedete, abbiamo il documento centrale e poi abbiamo il punto che abbiamo creato, quindi possiamo ritornare al punto di prima o al punto che abbiamo appena creato. Ancora qualche notizia, innanzitutto se per caso il pannello si blocca e non dovesse più rispondere ai comandi dobbiamo chiudere il nostro pannello e poi andare qui, vedete, abbiamo il nostro plugin e poi qui abbiamo reset, cioè possiamo resettarlo allo stato iniziale. Naturalmente possiamo farlo anche da qui, vedete la nostra voce e reset plugin. E vi dico che qualche volta a me è capitato e quindi non c'è nessun problema, ritornate alla posizione iniziale. Inoltre torniamo qui nel nostro pannello, abbiamo qui le impostazioni. Clicchiamo e guardate, abbiamo la visualizzazione di tutte le sessioni, quindi possiamo visualizzare o meno una sezione all'interno del pannello. Poi l'ordine dei livelli e inoltre è molto interessante la possibilità di cambiare l'icona di accesso per ogni sezione. Allora guardate, torniamo qui nel nostro pannello, vedete, abbiamo queste iconcine qui sulla destra e queste ci permettono di avere un accesso rapido ad un comando che possiamo scegliere noi senza aprire ogni volta la sezione dedicata. Ora guardate, andiamo sempre qui, ad esempio abbiamo qui l'allegnamento, qui è centrale, vedete, adesso qui vengono tutti posizionati al centro. Torno indietro, poi cambiamo, andiamo a cambiare questo allegnamento, quindi andiamo nella sezione dell'allegnamento e poi qui possiamo scegliere, ad esempio, un programma top. Andiamo a fare la nostra prova, vedete, adesso qui l'allegnamento è cambiato, ecco qua che adesso ce l'abbiamo al sopra, quindi possiamo cambiare le icone di accesso rapido. Per quanto riguarda l'installazione, una volta in possesso del file, lo dovete aprire normalmente come si apre qualsiasi file e poi ve lo ritrovate installato qui in Adobe Creative Cloud e poi una volta che l'avete installato, aprendo Photoshop ve lo trovate qui nella scheda di plugin. Bene, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.